La tumultuosa rottura tra Chiara Ferragni e Fedez raggiunge livelli esplosivi, con l'avvocato divorzista Daniela Missaglia che svela dettagli sconcertanti. Prima di continuare con questo video, ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille. Con una reputazione temibile nel mondo legale, Missaglia ha affrontato casi mediatici di grande risonanza, come il divorzio di Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Secondo l'avvocato, dietro alla rottura c'è molto di più, indicando il comportamento di Fedez come un chiaro segno di distacco coniugale. Mentre le voci di separazione si diffondono, Chiara respinge prontamente insinuazioni, ma l'enigma intorno alla fine del matrimonio si complica. I fan chiedono loro di riflettere, soprattutto per il bene dei loro figli. La storia si sviluppa, sperando in una rapida e positiva risoluzione. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento e inoltre vi ricordiamo un piccolo supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille.